Armando Grassitelli, benvenuto a Radio Svago. Oggi parliamo di una famiglia con la M maiuscola. Questo è un libro importante per te, per la tua carriera di scrittore. Diciamo subito che Armando non fa solo lo scrittore, fa tantissime altre cose, anche troppe per raccontarle, però in realtà diciamo che lui ha questa sua passione che è quella di scrivere e dobbiamo dire che in realtà gli riesce anche bene. Una famiglia con la M maiuscola è il racconto con cui, lo diciamo subito, ha vinto il premio Massimo Torisi nel 2018 per la migliore scrittura comica inedita. Da questo racconto, che poi ci dirai anche nei particolari, è venuto fuori questo libro che è una raccolta di racconti. Alcuni sono stati già pubblicati in passato con tua grande soddisfazione e anche orgoglio, anche perché in realtà in tutti questi racconti contenuti, in questa raccolta che diciamo subito è pubblicata da Diogene Edizioni, un editore giovane che ha una grande voglia di fare, questo poi glielo abbiamo già detto anche di persona, comunque in uno di questi racconti c'è uno spaccato di vita, di vita tua personale, di cose che ti sono successe, che tu hai voluto raccontare con la tua chiave, che è la chiave sempre quella ironica, quella leggera, ma racconti dei quali poi comunque si possono anche trarre degli spunti di riflessione. Questo lo dico perché il libro l'ho letto, conosco i racconti e diciamo che mi posso adesso anche freggiare di dire che inizio a conoscere sempre meglio Armando. Armando, una famiglia con la M maiuscola, è proprio la tua famiglia? Buongiorno a tutti quanti gli amici di Radio Svago, buongiorno Barbara, sì, è esattamente la mia famiglia, ovviamente traslata e trasposta in chiave ironica, nella copertina ci sono mia moglie e le bambine, Giorgia e Silvia, bambine una volta come dico sempre, mi è piaciuta l'idea di raccontare in maniera ironica piccoli spaccati di vita quotidiana, lo spunto è nato esattamente un giorno in cui sono andato a prendere Silvia a scuola, noi abbiamo un cartellino nei genitori che dobbiamo consegnare ai bidelli affinché ci venga data una bambina e un bel giorno ho detto, e se mi restituissero un'altra Silvia? Ovviamente una festeria clamorosa, però è stato lo spunto, è nato un piccolo raccontino che poi si è espanso e che un bel giorno di Natale, la Virginia di Natale, ha fatto sì che la giuria del premio Troisi mi dicesse, tu hai vinto, caspita, cioè vincere il premio Troisi è stato, uno, non soltanto un regalo di Natale, ma un regalo che non posso negare ha cambiato la prospettiva della mia vita, almeno di scrittore, apriamo tante virgolette, tante tante tante, e anche qualcuno in più, ed è stato un grandissimo regalo, Salvatore Principe, che è un ragazzo d'oro, ovvero di oggi in edizioni, una piccola ma forte casa editrice radicata nel Vesuviano, ha detto, senza sapere che avessi vinto il premio, i tuoi racconti mi fanno ridere, e la cosa drammatica qual è? È che ci sono alcuni racconti che io pensavo fossero seri, cioè nonostante sono diventati una cosa cialtronesca, aggettivo che non piace al mio amico scrittore Cristian Caprillo, è diventato, poi parleremo di Cristian Caprillo, insomma, sono diventati sei racconti, e hanno preso questa bellissima veste grafica, abbiamo lavorato molto, è stato presentato a un vulcano di libri, tre settimane fa, la Fiera Vesuviana del Libro della Lettura, e l'altro giorno è stato a Napoli Cittalibro, a vostè della di oggi in edizioni, e devo dire, ed è una grandissima gioia, che abbiamo esaurito la prima tiratura. Bene, quindi possiamo già dire qua a Radio Svago, lo diciamo per la prima volta, pubblicamente, che questo piccolo libricino, ma è tanto carino e simpatico, va già in ristampa. Assolutamente sì, prima ristampa esaurita, l'editore non credeva i propri occhi, le proprie orecchie, al proprio portafoglio, quando ha detto, caspita abbiamo già finito le copie, per cui tolte quelle poche che stanno in distribuzione presso le piattaforme online, oggi parte la ristampa, quindi tra 3-4 giorni, nelle librerie migliori di Napoli, si dice così in questi casi, Io ci sto, Guapanapoli, che è l'associazione che ha fondato con mia moglie Marta, e qualche altro punto vendita, La Bottega delle Parole a San Giorgio a Cremano, e altri punti vendita che a mano a mano si aggiungeranno, ci sarà questo bel libricino. Libricino che viaggerà perché uno dei racconti all'interno di esso, che si chiama Dagli undici metri, che è una storia semiseria dei miei calci di rigore. Voi dite, che ve ne frega dei calci di rigore di Armando Grassitelli? Niente, non ridere, si seria il giornalista. Il calci di rigore che io ho battuto durante il torneo di calcio degli avvocati, perché io sono un avvocato anche se non esercito più, solo diventa di pretesto per una storia sulle passioni, e infatti questo libro ha sei racconti, tre di sport e tre ironici. Anche quelli di sport in realtà contengono elementi umoristici. La cosa bella è stata quando il racconto dagli undici metri, cosa ho imparato da un calcio di rigore, è stato ammesso nella Biblioteca della Cultura Sportiva Nazionale e andrà nella Grande Biblioteca Nazionale che il Comitato Organizzatore di Matera 2019 sta creando e verrà presentato nei prossimi giorni. Ok, però voglio tornare un attimo a una famiglia con la M maiuscola. Adesso ho la domanda che secondo me tutti ci siamo posti, anche io, ma tu ancora mi devi dare una risposta, nonostante noi ci sentiamo tre, quattro, cinque volte al giorno per la somma gioia dei nostri rispettivi consorti che in realtà manco sono più gelosi, ma perché con la M maiuscola? Perché M? La M secondo me è perché il nome di tua moglie, davvero? In parte sì, in realtà è che volevo fare un piccolo omaggio a Fratelli Giuffri alla Fortuna con la F maiuscola, appena troppo banale scrivere una famiglia con la F maiuscola. Ha detto ok, ci vuole qualcosa. Siccome è un racconto surreale che parla di mia moglie che fa la spacciatrice, no, non vorrei dirlo, però insomma mia moglie ha apprezzato molto questo fatto che l'abbia scambiata per una spacciatrice, che le mie bambine abbiano dei momenti di dissociazione psichica e allora ho detto M maiuscola, è troppo facile fare con la F, tutto qua. Allora Armando, in realtà noi ci avevamo detti, parliamo giusto cinque minuti e abbiamo già, diciamo così, siamo arrivate già a sei, ci fanno segno. Allora noi, come padronini di casa, sono molto gentili, hanno detto pigliatevi il tempo che volete, noi allora ce lo rubiamo questo tempo. Allora, ci stanno una serie di, insomma, racconti Claudio il cantante dagli undici metri di cui abbiamo appena parlato, l'affare del secolo, l'amore è una palla a spicchi arancione e questo, insomma, chi è che non pensa immediatamente al basket, che è una delle grandi passioni di Armando, che fra l'altro, vi voglio dire, lui non lo dice, però lui è anche un grande esperto di pallone. Il mistero del mancino, poi ci sono i ringraziamenti, e poi c'è una cosa divertentissima, che è il dialogo tra un editore di libri e uno che scrive. Adesso però vi voglio, diciamo, una delle cose più divertenti di questo libro è contenuto in uno dei racconti, e questo lo devo dire perché ogni volta che ci penso rido, ed è il rapporto del protagonista di uno dei racconti col Cotton Fioc. Allora, io vi assicuro che voi, leggendo questo racconto, non potrete non ridere, perché il Cotton Fioc, quello a Geggino, che adesso, fra l'altro, è messo al bando, perché dicono che inquina particolarmente, il protagonista di questo racconto, quando sente che viene praticamente eliminato dal mercato, va in crisi. Raccontaci proprio una chicchettina, perché così, insomma, diciamo, a chi ci sta sentendo, che se lo deve assolutamente leggere. Beh, allora, pensate quanto è importante, quanto è lavorato questo libro, cioè non si parla di fama del mondo, non si parla di carestia, non si parla di violenza di genere, si parla di Cotton Fioc in esaurimento, cioè rendetevi conto della qualità artistica che viene sprigionata da questo libro. Il Cotton Fioc è un racconto sincero, sentito, che è nato una bella mattina, quando io stavo facendo le abluzioni mattutine, bella abluzione, questa la userà sempre l'amico Capriello, e ho detto, caspita, sentivo la radio, i Cotton Fioc messi al bando dal 2020, e dicevo, i Cotton Fioc messi al bando, e io come faccio a quel punto a pudirmi le orecchie? Ed è nata questa cosa pessima, che però in realtà mi ha fatto ridere molto mentre la scrivevo, perché dicevo, è così ridicola, che o la gente guarderà questo racconto e dirà, ma questo veramente ci è o ci fa, oppure riderà. Beh, sembra che la gente stia ridendo sul racconto di Cotton Fioc. Allora, visto che lo abbiamo varie volte evocato, ne approfittiamo sempre che fino a che non ce ne calciano, dobbiamo parlare un attimo di Christian Capriello. Christian Capriello è uno scrittore col quale tu hai condiviso una bella avventura, che è quella di scrivere un libro a quattro mani, si dice così, e che il libro si chiama Come le storie che cominciano, che è, anche questo insomma, è un romanzo completamente diverso, insomma, perché ha dei toni molto più sfumati, è un libro dolcissimo, che parla di paternità, ed è un libro, anche in questo caso, insomma, diciamo che l'ho letto più volte, è un libro nel quale si racconta la storia di due coppie di ragazzi napoletani che scoprono nello stesso giorno di aspettare un bambino, e quindi è, diciamo così, il periodo della gravidanza e la nascita di questo bambino visto questa volta da quattro punti diversi, quattro punti di vista diversi, quindi dei due papà, neopapà poi, e delle mamme, e anche questo libro però avrà, insomma, qualche sorpresa, riservato delle sorprese, a parte grande soddisfazione nelle vendite. Sì, è un libro che è andato come una scommessa tra la mia scrittura, che è più secca, diretta, che cerca la battuta, anche a tutti i costi a volte, e la scrittura rotonda, larga, come dire, molto più innamorata della vita di Christian. L'idea era appunto mettere insieme due famiglie che incrociavano i loro destini perché scoprivano nello stesso giorno di aspettare un bambino, non lo stesso ovviamente, almeno credo. Insomma, questo libro è arrivato alla seconda ristampa e anche questa è stata una bellissima sorpresa, ringrazio la bottega delle parole di Miriam Gison, che è il nostro editore, di San Giorgio a Cremano, e il 19 aprile riceveremo un premio, un premio per, al festival intitolato sempre a Troisi, al teatro Troisi, chiedo scusa, un premio partenope, il 19 aprile, per il romanzo più originale dell'anno. Quindi, questo non vuol dire che sia bello, vuol dire che originale, quindi tenete conto che è un libro bellissimo, e lo dico perché l'ho scritto io ovviamente, tu ovviamente annuisci, ma soprattutto sì, è stata una bellissima sorpresa, diciamo che questi mesi si stanno rivelando prodighi di sorpresa, c'è una cosa che tu non sai. Ancora? Sì. E come mai me ne hai tenuto nascosto? Perché l'ho saputo questa mattina, dottoressa Tapuri, giornalista. Allora, avrei una presentazione mercoledì 17 da Io ci sto, a Piazza Fuga, con l'amica giornalista Federica Colucci che modererà le festevi che dirò per 40-45 minuti, dopo la gente sviene, e vado al Salone del Libro di Torino, sono stato invitato al Salone del Libro di Torino con una famiglia con le mie maiuscola. Mi hai già fatto il biglietto del treno? No, ecco, c'è un piccolo particolare, me lo pagherò da solo il viaggio, però sono stato invitato. Come dire, gli scrittori di seconda fascia non hanno né l'albergo del treno, si pagano l'albergo, si pagano il treno, forse si pagano anche il biglietto di ingresso, però pare che UniPegaso mi ha invitato a presentare il libro nel loro stand. Allora, non approfittiamo oltre, io direi. Dunque, io vorrei ricordarvi questo è una famiglia con la M maiuscola, eccolo qua, lo trovate nelle librerie, visto che ci ospitano sulla piattaforma di Facebook, ovviamente Armando Grassitelli, con la penna sulla carta, è la pagina dello scrittore, il libro ha anche una sua pagina Facebook, anche Instagram, perché l'abbiamo convinto, perché lui non voleva, non credeva in questo mezzo, e io ringrazio Radio Svago, ringrazio chi ci ha ospitato, e allora ci rivediamo in giro, diciamo a chi ci sta ascoltando di seguire tutti gli appuntamenti per le presentazioni, venite a conoscere Armando, perché davvero è insopportabile, e anche venite a conoscere la famiglia con la M maiuscola di Armando Grassitelli. E seguite Radio Svago, soprattutto. Grazie.